Manca poco più di un mese al grande concerto di Italia, l'OVS Emilia, organizzato per il 22 settembre al Campovolo di Reggio. Anche durante la festa del Partito Democratico sarà possibile acquistare i biglietti, ma nello stand allestito al Campovolo sono organizzate anche altre iniziative. Sentiamo quali da Manuela Catellani. I volti dei 14 artisti che saranno a Reggio il 22 settembre campeggiano sulla parete dello stand allestito al Campovolo. Ma Italia L'OVS Emilia non è solo il grande concerto per la raccolta fondi a favore della ricostruzione nell'Emilia colpita dal terremoto. È anche un'occasione per ascoltare chi questo sisma lo ha vissuto davvero sulla sua pelle, chi si è rimboccato le maniche subito dopo le scosse per tornare il più presto possibile alla normalità. In questo stand all'interno della cittadella della festa nazionale del PD porteranno la loro testimonianza i protagonisti del dopoterremoto, grazie agli incontri promossi da Max Devil e che Telereggio manderà in onda. Ci aspettiamo che ci vengano a raccontare come hanno affrontato il subito, il dopoterremoto praticamente dalla notte del 20 e dal mattino del 29 maggio, come hanno affrontato il sisma e ce lo racconteranno qua. Dal 25 agosto in poi sul palco si alterneranno tra gli altri volontari della protezione civile e medici, imprenditori e semplici cittadini che si sono impegnati per la loro comunità. Persone che Max Devil ha incontrato nei giorni scorsi, le interviste si possono già visionare su Youtube. Sono state tutte cose molto importanti e che hanno colpito anche noi che li abbiamo intervistati. Dall'altro lato dello stand proseguirà la raccolta fondi. Sarà possibile acquistare i biglietti del concerto, ad oggi ne sono stati venduti più di 80 mila, ma non solo. Anche maglietti, gadget e quant'altro che sono sempre dedicati alla raccolta fondi, quindi tutto verrà destinato alla ricostruzione di una scuola o più scuole nella parte interessata del sisma.